I grandi campioni olimpici, un ricordo indelebile! Per dare un'idea della carriera di Javier Sotomayor, basti pensare che tra i 24 salti più alti di tutti i tempi, 17 sono suoi. Inoltre ha saltato oltre i 2,40 metri ben 21 volte, più di chiunque altro. E ancora oggi il suo 2,45 metri raggiunto nel 1993 non è stato superato da nessuno. Nato a Cuba nel 1967, Jada Juniores Sotomayor raggiunge misure ragguardevoli nel salto in alto. E quando comincia a gareggiare con i grandi per tutti gli anni 90, lascia le briciole ai suoi avversari. Nel corso della sua carriera conquista due titoli mondiali outdoor, tre indoor e tre titoli ai panamericani. Nel suo palmarès figurano anche un oro olimpico a Barcellona 92 e un argento a Sydney nel 2000. Si ritira nel 2001 dopo che il finale della sua carriera viene macchiato dal doping. Tuttavia Sotomayor resta ancora oggi una leggenda per tutta Cuba.